Noi abbiamo fatto, ma poi vi faccio anche vedere la mia, noi abbiamo fatto questa con l'aiuto mio, ma soprattutto facendolo con questa pala. Ah, fai vedere come si entra. Si entra da qua, però non si può uscire, perché in effetti si dice che è bloccato, quindi si entra da qua. Illustraci tutto quello che hai fatto. Io ho fatto questa parte, poi all'inizio abbiamo scavato dentro per non permetterci la neve, poi ho fatto un po' di qua e poi arriva il grosso. Siamo andati a tappare tutto questo pezzo, nel senso poi abbiamo scavato e abbiamo preso i pezzi in fondo da attaccare alla parte dove ci sono i buchi. In effetti non è ancora asciutto, ma quando sarà asciutto nessuno ce lo potrà rompere. In effetti è una cosa, un igloo. Bene, vai, ora recuperate le pale che andiamo a casa. No, no, non è neanche illustrato la mia. Vai, illustraci anche la tua. È la mia! E la tua l'hai fatta insieme col babbo. Dov'è la tua paletta, Leo? No, questa è la mia. Era quella di luna? Beh. Vai, facci vedere. Io poi, è anche un'altra cosa, io ho costruito anche questa. Solida un po', anche questa è molto dura. Bene. E guardate, qua si mette il piede e ci si può anche incastrare il dolce. Ma questa non ha la testa madre, questa ha la clossa come gli armani. Quindi... Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti.